buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale lo so è da tantissimo che non giro un video che non mi faccio vedere però non ci pensiamo non vi racconto nulla oggi sto qui con voi e giro un piccolissimo video unboxing e sì perché già da una settimana mi è arrivato un pacchetto un pacchetto di cabochon da elga casagni e quindi oggi vi mostro il contenuto e questi nuovi cabochon che lei mi ha inviato in collaborazione quindi grazie a elga grazie di cuore per questi splendidi cabochon e spero quanto prima di avere il tempo di utilizzare tutti questi bei cabochon che ultimamente ho ricevuto quindi sigla giro la camera e vi mostro il contenuto di quello che mi è stato inviato dimenticavo se volete anche voi vedere dal vero ed acquistare questi cabochon basta che mi chiediate l'amicizia su facebook ed io vi inserirò all'interno del gruppo esclusivo di la perleria quindi mi metto giù nell'info box tutti i link utili dei miei contatti per poi inserirmi all'interno nel gruppo di questi splendidi cabochon lei condivide anche tanti tutorial e quindi diciamo che secondo me è un modo carino per stare insieme e per condividere una passione ok quindi giro la camera e vi mostro allora oggi ci fanno compagnia questi fiorellini ecco le raccolti li stavo mettendo in un vaso ecco ricordiamoci che siamo in primavera e quindi godiamoci questi momenti passo subito a mostrarvi le coppie di cabochon che sono sempre bellissimi grazie di cuore elga veramente allora passo subito col mostrarvi i vari cabochon allora questa è la prima coppia anche queste hanno il retromorbido se vi siete persa l'unboxing di questi video del tutorial in cui utilizzo questi cabochon vi metterò anche di questi il link giù in basso sono veramente facili da utilizzare e io in quel video vi do qualche dritta quindi ve li consiglio questo è uno degli orecchini realizzati con questi cabochon quindi andate a vedere il video di riferimento se vi piace naturalmente questo stile di orecchini altra coppia di cabochon e questa di forma quadrata vedete con quel simbolo dello ying e dello yang con dei volti vedete c'è un volto di donna sono molto particolari e secondo me si fanno dei bei lavori dopodiché ancora un altro questo cerco di aprirvelo perché altrimenti non si vedono bene tutti i colori e mi dispiace questa è un'altra coppia eccoli qua anche qui c'è un volto di donna molto romantici con questi colori con questo ramaggio molto sfumato belli delicatissimi e questi secondo me fatti in questo modo qui vengono molto molto belli naturalmente si possono utilizzare al su touch o al classico biden broder incastonandoli io vi ho dato soltanto delle virgolette tra virgolette delle opzioni diverse dal solito questi li devo aprire perché sono meravigliosi questi sono tutti in pasta polimerica con delle schegge eccoli qua vedete naturalmente potete usarli sia in un verso che in un altro sta a voi la scelta e sono delle navette e come vedete hanno tutte queste schegge di madre perla in questo momento mi sfugge il nome di questa in particolare che ha queste sfumature verdi col verde con l'azzurro con il viola poi ve lo metterò eventualmente in sovraimpressione io questi li amo tantissimo tantissimo poi cambiamo un poco genere e vi mostro questi altri super romantici e anche di una tipologia come questi se non erro ho fatto il tutorial sul canale per i mostro da vicino hanno sono fatti in pasta polimerica quindi sono rigidi insomma non hanno il retro morbido sono piatti ed hanno un diametro più piccino e mi sa che sul mio canale c'è un tutorial in cui con decabotion simili vado a realizzare degli orecchini a roba al lobo utilizzando la canottiglia quindi anche di quelli se trovo la foto di riferimento ve la metto qui altrimenti sul mio canale trovate tutto e a proposito di questo vi invito se mi state conoscendo con questo video ad iscrivervi al canale ed a cliccare sulla campanella così da non perdere tutte le notifiche poi potrete andare all'interno delle varie playlist e trovare tutti i tutorial che vi piacciono al momento non sto girando tanti tutorial non è un periodo top a livello di tempo e quindi insomma però potete andare a spulciare tra quello che già c'è di sicuro c'è un tutorial in cui utilizzo cabochon di questa dimensione per fare degli orecchini deliziosi al lobo dopodiché mi ha mandato questo set che è meraviglioso perché ha dei colori stupendi so già che dal video non riuscirete a cogliere i colori è un color pesca pesca molto delicato con questa texture particolare e questi glitter delicatissimi voi lo vedete più chiaro è leggermente leggermente più pescato ma è meraviglioso questo per la stagione che verrà è veramente un set bellissimo e mi sa che mi faccio qualcosa per me sono veramente belli 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 e poi guardate lo spessore ideale e insomma finitura top quindi bellissimi ancora grazie elga vabbè io andrò di grazie a google poi ecco qua un altro paio di cabochon guardate con i colori molto simili a quelli di questi orecchini questi sono quadrati hanno lo stesso retromorbido che in questo caso ma sono quadrati ipotizzate che potreste fare anche ecco un degli orecchini posizionandoli a rombo a quadrato sempre con le frange e con lo stesso identico sistema dovete naturalmente fare un po d'attenzione negli angoli e però si possono tranquillamente utilizzare quindi anche questi bellissimi naturalmente nella bustina non si vede la bellezza dei colori però guardando questo di riferimento sappiate che sono più o meno le stesse colorazioni quindi vanno dal verdino dal smeraldo rosa tenue il glicine un po di avorio sono meravigliosi non sto qui a farvi l'elenco di tutti i colori e poi ultimo questo invece più autunnale apro la bustina e poi ve lo mostro eccoli qua come vi dicevo sono più autunnali perché hanno proprio questi colori insomma che ricordano l'autunno hanno questo foliage tutte queste foglioline tutti intorno ed hanno la parte centrale più più chiara e anche questi sono da 25 sempre con il retromorbido a proposito se volete essere inseriti all'interno del gruppo per questi caposchon basta che mi chiedete l'amicizia su facebook mi trovate come gabrella casano vi metto comunque giù qui nell'info box tutti i link per contattarmi mi trovate anche su instagram ecco sono un po su instagram facebook e youtube mi trovate non ho twitch tic toc e tutte queste altre cose già questi mi bastano quindi dicevo potete contattarmi e io poi vi inserisco all'interno del gruppo che dire grazie elga per queste meraviglie per questi bellissimi caposchon spero spero di trovare spero di trovare quanto prima il tempo per poterli lavorare questi ma anche gli altri che già insomma ho lì nel mio cassettino per poterli lavorare e che dire ragazze vi abbraccio tutte ed auguro sempre a tutte buona creatività ciao